Benvenuti ragazzi e bentornati a tutti in questo nuovo video. Quest'oggi voglio aprire una nuova rubrica dal nome Se lo dico io non conta. È una rubrica dove vi voglio far vedere tutto ciò iniziando adesso da ciò che ho detto ieri sera in una live voglio farvi vedere tutto ciò che io avevo affermato e che effettivamente dove è stato confermato ore dopo anche a volte ore dopo, a volte giorni dopo a volte lo stesso giorno anche da quelli che voi affermate essere esperti nel settore idrolutico Andiamo a vedere per l'appunto di Call of Duty Black Ops 6 Ieri sera a partire dalla mezzanotte io l'ho portato in live e già dalle prime occhiate vi ho detto che c'era qualcosa che non andava nell'ottimizzazione che c'era qualcosa che non mi tornava nell'ottimizzazione e nel motore grafico, nell'ottimizzazione del motore grafico del titolo Esattamente 5 ore fa, quindi dopo la mia live esce fuori questa news Call of Duty Black Ops 6 ha un problema con gli upscaler DLSS, FSR e XSS fanno più danni che altro Ma andiamo a leggerlo Call of Duty Black Ops 6 sembra avere qualche problema con gli upscaler DLSS, FSR e XSS non funzionano come dovrebbero e in pratica fanno più danni che altro Pare che Call of Duty 6, lo spadotto di Atvision pubblicato per tutti da oggi pare avere un problema, lo ripete, pare che pare avere un problema con tutti i principali upscaler con conseguenti miglioramenti minimi delle prestazioni nonostante il rendering a risoluzione più basse Ora, qui prendiamo ad esame la versione PC ovviamente ma, ragazzi, il motore grafico è lo stesso quindi diciamo che i stessi problemi seppure in maniera diversa li possiamo avere sulle versioni PlayStation e le versioni Xbox Secondo l'utente importante Shake1904 ogni upscaler ha apparentemente un over-id di prestazioni di circa il 40% quando abilitato che significa che ogni volta che un upscaler è abilitato il framerate di base scende di circa il 40% prima di essere aumentato quindi scende e poi l'upscaler lo riaumenta Questo problema, secondo l'utente era presente anche nelle stagioni più recenti di Modern Warfare 3 e non è stato risolto quindi quando io vi dico ragazzi, credo che questi non ci sia un grande miglioramento hanno sempre lo stesso motore grafico sempre le stesse cose ovviamente un po' a livello grafico a livello tecnico migliora ma neanche più di tanto ma lo avevo detto io quindi da qui il nome della rubrica se lo dico io non conta l'utente ha anche fornito alcuni risultati di benchmark da test condotti su due diverse configurazioni ovviamente ripeto qui parliamo della versione PC ma ovviamente se il motore grafico è quello non aspettatevi che qualche problema non lo avete anche sulle versioni console detto questo per la prima puntata di se lo dico io non conta è tutto ma iscrivetevi al canale e restate aggiornati perché recupererò anche altre cose che io avevo già affermato ma che a quanto pare se lo dico io non conta ciao a tutti ciao ragazzi e buon gioco grazie a tutti